Ringrazio il Presidente Zeno D'Agostino per la sua accoglienza di oggi, sicuramente ha fatto in questi anni un gran lavoro e sono certo che riusciremo a proseguire in maniera sinergica come abbiamo fatto col protocollo della digitalizzazione del porto e sono certo che anche altre progettualità di ricerca operativa e di analisi dei dati sulla logistica ci vedranno impegnati sempre con l'obiettivo di fare sistema e di migliorare l'operatività nel territorio per il Paese.